Aumenta del 30% e arriverà con una settimana d'anticipo la fornitura all'Unione Europea di vaccini anti-covid da parte di AstraZeneca, che si è impegnata a consegnare un totale di 40 milioni di dosi. Lo ha annunciato con un tweet la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha ribadito l'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione adulta entro la fine dell'estate. La notizia arriva dopo un braccio di ferro con la compagnia farmaceutica anglo-svedese. Aveva annunciato drasticità alla distribuzione, che avevano alimentato il sospetto che stesse favorendo i clienti britannici a danno di quelli dell'Unione, di cui la decisione della Commissione di attivare un severo monitoraggio sull'exporto di vaccini verso paesi terzi e la minaccia poi archiviata di controlli sul trasporto di dosi al confine fra Irlanda e Irlanda del Nord, dove il passaggio merce è rimasto libero dopo la Brexit. A proposito del vaccino AstraZeneca, dopo quello dell'Agenzia Europea per i Medicinali, è arrivato in Italia anche il sì di quella nazionale, l'AIFA, che tuttavia ne ha raccomandato la somministrazione agli under 55. Il paese attende di conoscere il nuovo piano di somministrazioni alla luce dei tagli annunciati anche da Moderna e Pfizer. Il Portogallo, che detiene la presidenza di turno dell'Unione, è il paese membro più in sofferenza in questo momento, con nuovi contagi e morti giornalieri in rapporto alla popolazione da record mondiale. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato su Twitter che accoglierà pazienti portoghesi, come già aveva fatto con italiani, francesi e montenegrini, per dare sollievo alle terapie intensive. Anche l'esercito tedesco offrirà personale supporto materiale. Il Portogallo conta oltre 720.500 contagi e più di 12.480 morti. I servizi funerari faticano a star dietro all'alto numero di decessi ed è alta la preoccupazione di ammalarsi anche fra i lavoratori del settore. Uno di loro spiega che indossa tre paia di guanti per proteggersi. Dal Portogallo non si può uscire se non per motivi di salute e lavoro. In Algarve, alla frontiera con la Spagna, sono in corso attenti controlli.